Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo è previsto per mercoledì 27 maggio. Insiste il suo Balcane in vortice di bassa pressione che sospinge venti più freschi su gran parte dell'Italia, ma soprattutto sulle regioni adriatiche, le quali avranno solo un effetto di contenimento delle temperature, ma senza altri fenomeni di rilievo. Ecco allora, scendendo ai dettagli, il tempo che farà, un po' di nubi sparsi al centro-nord, isolati, rovesci o temporali, nelle ore pomerigliane, su Alpe Marittime, rilievi abruzzesi, rilievi calabri, temperature massime, stazionarie, con valori intorno a 20-25 gradi. Ma quando arriveranno le piogge tanto attese? Beh, una fase piovosa ci sarà tra il 29 e il 31 maggio, la confermiamo, il 29 soprattutto al centro-nord, il 30 soprattutto al centro-sud e il 31 al sud. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.